Voleva protestare contro il suo trasferimento nel penitenziario di Ascoli Piceno, così un detenuto albanese di 29 anni, con fine pena novembre 2017, ha deciso di dare in escandescenza al carcere di Fossombrone, iniziando a colpire i poliziotti con violenza, tanto che uno di loro ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. A darne notizia il sindacato autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, che rinnova il Ministero della Giustizia Orlando e ai vertici dell'amministrazione centrale, la richiesta di dotare le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria di strumenti di tutela efficaci, come può essere lo spray anti-aggressione già assegnato in fase sperimentale a Polizia di Stato e Carabinieri. Nicando Silvestri, segretario regionale del SAP, evidenza che nel 2014, nelle carceri marchigiane, si sono contati 96 episodi di colluttazione e 11 ferimenti. A Fossombrone c'è stato un ferimento, mentre i suicidi di detenuti sventati dai poliziotti sono stati 3 e 10 gli episodi di autolesionismo. Siamo alla follia, ha commentato invece il segretario generale Donato Capace. Questi inaccettabili atti di violenza andrebbero puniti con estrema severità, non sono più tollerabili, ha detto. Capace poi torna a sottolineare come quest'ultima aggressione stia a significare che le tensioni e le criticità nel sistema dell'esecuzione della pena in Italia siano costanti e che a poco serve un calo parziale dei detenuti da un anno all'altro se non si promuovono riforme davvero strutturali nel sistema penitenziario e dell'esecuzione della pena nazionale, come ad esempio l'espulsione dei detenuti stranieri, specie quelli, dice che ristretti in carcere italiani si rendono protagonisti di eventi critici e di violenza durante la detenzione.